Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Silvia e oggi, nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete anche seguirmi su Instagram, ma soprattutto vi ricordo che è uscito il mio shop. Vi lascio tutte le informazioni qui sotto nell'info box. Detto questo, diamoci dentro col video. Ciao a tutti. Il caso di Lauren Giddens. Come al solito, andiamo con ordine. Lauren nasce il 18 aprile del 1984 a Tacoma Park, nel Maryland, da William e Karen Giddens. È la prima di tre figlie. Le sue sorelle minore si chiamano Sarah e Caitlin. La ragazza cresce e vive a Laurel, nella contea di Prince George, nel Maryland. È un membro della chiesa cattolica di St. Mary of the Mills. Gli suoi genitori, infatti, sono molto devoti e frequenta la St. Mary's School, alle elementari e alle medie. Lauren è una ragazza davvero molto generosa. Cresce con gli insegnamenti della chiesa. Vuole aiutare gli altri. È una cosa che la fa stare bene e in pace con se stessa. La ragazza, inoltre, adora gli animali. Cresce circondata di animali, come cani, conigli, pavoni, tacchini, cincillà. Ma ama particolarmente il suo cagnolino pechinese, di nome Butterbean. Lauren è una ragazza di campagna. È una ragazza semplice. Adora la musica bluegrass, ossia un genere musicale tipicamente statunitense, che può essere considerato una branca del country. Inoltre fa amicizia praticamente con chiunque. È una ragazza allegra, aperta, simpatica ed è anche molto sportiva. Si diploma all'Hathleton High School, a Columbia, un sobborgo di Baltimore, nel 2002. È una ragazza molto intelligente, studia molto e fa anche diversi lavoretti per mettere da parte dei soldi. Lauren ha sempre sognato di trasferirsi nel sud degli Stati Uniti. Quindi, dopo il diploma, si trasferisce in Georgia, dove frequenta l'Agness Scott College. Ossia un piccolo college femminile a Decatur, appena fuori Atlanta, in cui studia per diventare medico. Come già vi ho detto prima, Lauren è una ragazza che ama fare del bene al prossimo. Ecco perché la sua aspirazione nella vita è quella di diventare medico. Però, quando inizia a frequentare le lezioni, si rende conto che fa molta fatica a seguire chimica. Così, un giorno, dopo averci pensato non poco, chiama a casa per parlare con i suoi genitori. Lauren dice a loro che sente di non star seguendo la strada giusta. Insomma, si è sbagliata, quanto pare la professione medica non fa per lei. Quindi decide di iscriversi a Scienze Politiche. Si laurea nel 2006 con la specializzazione in Scienze Politiche e in Studi Religiosi. Tutto sommato, la ragazza è popolare, anche all'università. Non ha assolutamente problemi a stringere nuove amicizie, ma riesce anche a mantenere i contatti con le sue migliori amiche delle elementari, che di nome fanno Lori e Chetty. Dopo la laurea, torna a casa, dove lavora per il National Center for Public Policy e, nel 2007, incontra David Van Diver, mentre sta facendo uno stage nello studio legale in cui lavora l'uomo. Lauren ha 23 anni, David ha circa 20 anni in più di lei. I due ben presto iniziano a frequentarsi, più precisamente nel settembre del 2007. La differenza d'età non crea problemi a Lauren. Le piace davvero molto, David. A questo punto la ragazza intraprende ulteriori studi in giurisprudenza. Vuole diventare un difensore d'ufficio. Nell'agosto del 2008, all'età di 24 anni, inizia a frequentare la Walter F. George School of Law della Mercer University, a Macon, in Georgia. Mentre frequenta la facoltà di legge, vive in un complesso di appartamenti chiamato Barrister's Hall, posto proprio di fronte al campus dell'università. Quel complesso di appartamenti in particolare è previsto solo per gli studenti di giurisprudenza. È su due piani e, obiettivamente, è davvero molto carino. Arriviamo al maggio del 2011, quando Lauren si laurea alla Mercer's Law School e, arrivata a questo punto, deve solo superare un esame per diventare avvocatessa. Poi, Lauren avrebbe potuto iniziare ad esercitare la professione. Gli studenti della Mercer trascorrono la maggior parte del tempo del mese di giugno 2011 barricati nelle loro stanze per studiare. Lauren quindi cosa fa? Avvisa la sua famiglia. Dice loro che avrebbe studiato per tutto il mese di giugno, costantemente. Quindi non dovevano preoccuparsi se non rispondeva a tutte le loro chiamate e a tutti i loro messaggi immediatamente. C'è da dire che la ragazza si impegna tantissimo negli studi. E si impegna così tanto che riesce addirittura a trovare il tempo per partecipare al matrimonio di sua sorella Caitlin nel Maryland. Poi arriva la mattina di sabato 25 giugno. Lauren esce di casa, va a fare la spesa. Passano 24 ore. Siamo al 26 giugno. È domenica. Sua sorella le invia un messaggio a cui però non riceve risposta. Ma non si preoccupa più di tanto. La sua famiglia pensa che Lauren stia studiando, ecco perché non risponde. Magari ha addirittura messo il telefono in modalità silenziosa per non essere disturbata. Passano quindi giorni, ma di Lauren non c'è traccia. Non risponde alle chiamate e non risponde ai messaggi. La prima a preoccuparsi è proprio Katie, una delle migliori amiche di Lauren dalle scuole elementari. Katie vive ancora nel Maryland e di lavoro fa l'operatrice sanitaria. Insomma, questa ragazza cerca di rimanere tranquilla per qualche giorno. Ma quando arriva mercoledì 29 giugno, inizia a preoccuparsi seriamente. Sono quattro giorni che Lauren non le risponde, ossia da sabato 25 giugno. Katie sa che Lauren è impegnata, ma non è così impegnata da sparire per giorni interi. Non è così impegnata da non poter rispondere mai a nessun messaggio, a nessuna chiamata. Quello che Katie pensa è, ok, Lauren sta studiando in modo matto e disperato. Va benissimo. Ma si prenderà delle pause. Dovrà pranzare, dovrà cenare, dovrà uscire a far la spesa. Quindi perché in queste piccole pause non risponde ai messaggi, non risponde alle chiamate o comunque non richiama le persone che l'hanno cercata? Insomma, cosa fa Katie? Inizia a contattare gli amici in comune e poi contatta anche la famiglia di Lauren. Fa sempre la medesima domanda. Qualcuno ha avuto notizie di Lauren? A qualcuno ha risposto almeno una volta? Nessuno degli amici in comune ha notizie di Lauren. Tra il suo fidanzato David. Lauren gli aveva inviato un'email la sera di sabato 25 giugno, alle 10. Bisogna chiarire una cosa. Lauren viene vista dai suoi amici per l'ultima volta, proprio il 25 giugno. Ossia sabato mattina, perché la sera prima sono usciti a bere qualche drink e a divertirsi. Dopo la serata fuori, però, Lauren non torna a casa sua, rimane a dormire da una sua amica. Tornando a casa solo la mattina successiva, ossia la mattina di sabato 25 giugno. Comunque, dopo aver lasciato casa della sua amica, Lauren, si dirige al country club di Macon per rilassarsi e nuotare un po' in piscina. David, il suo fidanzato, le ha dato il suo pass per poter accedere a questo country club. Perché lui, in quel fine settimana, si trova in California. Arriviamo alle 18.30. Le telecamere di sorveglianza riprendono Lauren, mentre compra del cibo da fast food per poi tornare nel suo appartamento. Ed è da quel momento che nessuno la vede più. A questo punto, Caitlin, la sorella di Lauren, il 30 giugno chiama un'amica di Lauren, che frequentava con lei legge, ossia Ashley Morehouse. Chiede a quest'ultima se per favore può andare a casa di Lauren per vedere se è tutto ok. Ashley ci va. E con lei c'è anche il suo fidanzato, ma quando bussa alla porta dell'appartamento di Lauren, non riceve risposta. La cosa è strana perché la porta è chiusa, tuttavia l'auto di Lauren, una Mitsubishi Galant del 2004, è parcheggiata davanti al complesso di appartamenti. A questo punto Ashley richiama a Caitlin per avvisarla che nessuno le ha aperto la porta. Però c'è da dire che non pensano subito al peggio. Magari Lauren è uscita per fare qualche commissione. Così decidono di andarsene per poi tornare qualche ora più tardi. L'auto di Lauren è ancora parcheggiata davanti al complesso di appartamenti, ma continua a non rispondere a nessuno, non risponde al telefono, ma soprattutto non apre la porta di casa. I ragazzi non sanno cosa fare, stanno un po' lì a parlare, si confrontano. Poi Ashley si ricorda che Lauren tiene una chiave di riserva nascosta in un portacandele sul suo balcone. Quindi la prendono e finalmente riescono ad entrare nel suo appartamento. C'è da dire che pensano di trovare una scena raccapricciante in quell'appartamento, ormai pensano al peggio. Nel frattempo un vicino di casa sente dei rumori, esce dal suo appartamento e incontra Ashley e il suo fidanzato che gli spiegano la situazione. Gli chiedono se per caso ha visto Lauren negli ultimi giorni. Il ragazzo risponde che non ha assolutamente visto Lauren ed è molto preoccupato. Quindi entra in casa con gli altri due ragazzi per dare un'occhiata. Ma la verità è che tutto sembra perfettamente in ordine in quell'appartamento. I ragazzi a questo punto si guardano intorno, cercano qualche indizio che possa farli tranquillizzare. Poi però notano la borsa che Lauren è solita usare. La aprono e trovano al suo interno il suo portafoglio con all'interno i documenti, le chiavi di casa e infine trovano anche il cellulare che però è scarico. Tra l'altro sul letto c'è anche il suo computer portatile. I ragazzi prendono il cellulare, lo mettono sotto carica, lo riaccendono e scoprono che l'ultima volta che Lauren l'ha utilizzato è stato sabato, ossia l'ultima volta che l'hanno vista. La domanda a questo punto è se Lauren se ne fosse andata, perché avrebbe dovuto lasciare le chiavi dentro l'appartamento? Perché il cellulare è spento? A questo punto Ashley e il suo fidanzato chiamano la sorella di Lauren. Gli spiegano la situazione e quindi Caitlin chiama la polizia della Contea per presentare la denuncia di una persona scomparsa. Il vicino intervenuto rimane con Ashley e il suo fidanzato in attesa dell'arrivo della polizia. La polizia quindi arriva ben presto a casa di Lauren, gli agenti entrano nel suo appartamento, danno un'occhiata ma non trovano nulla fuori posto. È la notte tra il 29 e il 30 giugno. L'orologio segna mezzanotte e 53, quando gli ufficiali e gli studenti che già hanno controllato l'appartamento di Lauren cercano anche vicino alla biblioteca e in tutta l'area circostante. Di Lauren però ancora non c'è traccia. Intorno alle 3 del mattino l'ufficiale della polizia di Macon se ne va. Arriviamo alla mattina del 30 giugno, perché parte l'indagine ufficiale sulla scomparsa di Lauren. Decine di poliziotti si recano nuovamente al complesso di appartamenti Barristers Hall. Perquisendo con più attenzione la zona e interrogando tutti i residenti, compreso Stephen McDaniel, il ragazzo che era entrato in casa di Lauren, per vedere se era tutto a posto il giorno precedente. Meno di un'ora dopo l'avvio ufficiale delle indagini, due investigatori entrano nel complesso di appartamenti, si spostano verso sinistra e vengono investiti da un odore orribile. E quell'odore orribile proviene dai bidoni della spazzatura. Non è odore di immondizia, è odore di morte. I detective ovviamente aprono il cestino della spazzatura, ma già sanno che cosa ci troveranno dentro, perché lo dicono tranquillamente, l'odore che si sente è inconfondibile. Una volta che lo senti non te lo dimentichi più. Quindi, in questo cestino della spazzatura, i detective trovano qualcosa. È un busto. È avvolto in dei sacchi neri e ancora addosso dei pantaloncini da jogging. Di quel corpo c'è solo il busto. La testa, le gambe, le braccia non vengono trovate in nessun altro bidone della spazzatura. Ovviamente, ulteriori analisi riveleranno che quel busto appartiene proprio a Lauren Giddens. I detective a questo punto entrano nuovamente nell'appartamento di Lauren, questa volta con un obiettivo, utilizzare il luminol. Il luminol è un composto chimico utilizzato dalla polizia scientifica per rilevare il sangue, anche se è stato precedentemente lavato. Gli agenti partono dal soggiorno e non trovano alcuna macchia strana. È tutto pulito. Procedono verso la cucina, ma anche lì tutto è pulito. Poi, entrano in bagno e a quel punto si illumina tutto. La vasca da bagno, alcune piastrelle. In seguito, facendo accurate analisi, la scientifica afferma che la vasca da bagno effettivamente era piena di sangue fino all'orlo. Gli investigatori a questo punto arrivano ad una conclusione. Lauren probabilmente è morta nel suo bagno o comunque il colpevole ha fatto a pezzi il corpo nel bagno della ragazza. A questo punto la polizia inizia ad interrogare in modo un po' più approfondito i vicini di Lauren e chiunque la conoscesse. Vogliono capire se per caso qualcuno aveva visto qualcosa. Nel frattempo una giornalista che è proprio lì fa un'intervista al vicino che è entrato con Ashley e il suo fidanzato a casa di Lauren per controllare che fosse tutto a posto e che la ragazza fosse sana e salva. Si chiama Stephen McDaniel Sappiate che c'è online un video sull'intera intervista che la mattina del 30 giugno i giornalisti hanno fatto a Stephen McDaniel Inizialmente Stephen sembra tranquillo racconta che Lauren è la sua vicina di casa si sono laureati in Trambia Maggio è una ragazza molto simpatica è una persona molto dolce e gentile ma soprattutto lui non sa dove possa essere finita la vedeva ogni tanto quando usciva per andare a fare la spesa o ancora quando usciva per andare a fare jogging quindi ipotizza che fosse effettivamente uscita a fare jogging per poi essere rapita da qualche malintenzionato dopo un paio di minuti dall'inizio dell'intervista la giornalista dice a Stephen che in effetti hanno recuperato un corpo o qualcosa del genere da un cassonetto il comportamento di Daniel a questo punto cambia radicalmente sembra sia scioccato dal ritrovamento del corpo rimane con la bocca aperta tipo così e dice solo corpo la giornalista si rende conto che il ragazzo non sta proprio benissimo quindi gli chiede tutto bene tutto ok Stephen le risponde no credo di dovermi sedere cammina fino ad un moretto lì vicino e si siede dando le spalle alla videocamera Stephen sembra sconvolto e credo sia normale insomma non accade proprio tutti i giorni che una giornalista ti intervisti seppur per un caso di scomparsa per poi dirti oh lo sai che hanno trovato un corpo in un cassonetto è scioccante insomma quindi a mio avviso questo specifico comportamento non è così insolito ciò che è insolito a mio avviso è che Stephen dopo circa 20 minuti si rialza e torna dalla giornalista per continuare l'intervista le dà diverse informazioni su ciò che lui e gli amici di Loren hanno trovato a casa sua la sera prima poi aggiunge che i suoi amici non la vedono più da sabato lui invece non la vede da molto di più settimane accenna che effettivamente forse sabato l'ha vista uscire per andare da qualche parte ma l'ha vista proprio per un anno secondo e non è neanche sicuro di averla vista davvero infine Stephen si mette a piangere o almeno ci prova lo dico perché non sembra molto convincente si inghiozza ma non scende mezza lacrima dai suoi occhi ma dice comunque si inghiozzando non conosco nessuno che avrebbe voluto farla del male era una persona così gentile infine dice che Loren aveva scritto un'email ad un suo amico di Atlanta in California ovviamente Stephen si sta riferendo al suo ragazzo David in questa mail Loren gli aveva scritto che pensava che qualcuno fosse entrato nel suo appartamento il giovedì sera precedente ossia il 23 giugno Stephen infine aggiunge tra le lacrime che avrebbe dovuto fare qualcosa per Loren ad esempio avrebbe dovuto offrirle una delle sue pistole per difendersi ora fermiamoci un attimo perché molti di voi potrebbero chiedersi e di conseguenza commentare scusa Silvio ma mi stai davvero dicendo che Loren era preoccupata che qualcuno fosse entrato in casa sua e non ha fatto nulla per mettersi al sicuro in realtà dovete sapere che entro il termine degli studi quindi entro pochi giorni Loren si sarebbe dovuta trasferire dal suo fidanzato David stavano ormai insieme da quattro anni e lui aveva addirittura intenzione di chiederle la mano quest'ultimo particolare l'ha rivelato David a distanza di qualche anno dalla tragedia ecco perché Loren ha evitato di chiamare la polizia o di cambiare la serratura entro davvero pochi giorni non avrebbe più abitato in quell'appartamento l'indagine nel frattempo continua e i detective mettono gli occhi su Stephen ma prima di continuare fermiamoci un attimo chi è Stephen? da dove viene? il ragazzo nasce il 9 settembre del 1985 da Mark e Glenda McDaniel cresce in un subborgo di Atlanta a Lillburn in Georgia è estremamente intelligente gli piacciono i puzzle il signore degli anelli e star wars la lettura è uno dei suoi passatempi preferiti ama molto i libri di avventura e di storia lui e suo padre condividono la passione per i film sui samurai a quanto dicono le persone che conoscono Stephen fin da piccolo era ossessionato dalla polizia tanto che i membri della sua famiglia lo chiamavano mister polizia questa ossessione per l'ordine e la polizia lo segue durante tutta la sua adolescenza fino all'età adulta Stephen studia molto al liceo tanto che quando si diploma nel 2004 ottiene una borsa di studio per la Mercer University si laurea quindi in economia poi a seguito della laurea si iscrive alla Mercer Low School ritrovandosi nella stessa classe con Lauren Stephen spera un giorno di diventare giudice federale al college il ragazzo sta per lo più per conto suo studia tantissimo e sta per la maggior parte del tempo chiuso nella sua stanza con gli altri studenti è piuttosto timido e goffo esce raramente e non beve quasi mai alcolici i suoi amici lo descrivono come un ragazzo strano che ama particolarmente gli zombie ma soprattutto Stephen molto spesso spiegava ai suoi amici che avrebbe voluto compiere il delitto perfetto a questo punto la polizia chiede ai residenti se possono dare un'occhiata ai loro appartamenti hanno già controllato la lavanderia del complesso trovando all'interno di un armadietto una sega le analisi evidenziano che su quella sega è presente nel sangue umano ulteriori analisi accerteranno che quel sangue è proprio di Lauren Stephen inizialmente rifiuta non vuole che la polizia entri in casa sua gli investigatori però gli dicono che si sono tutti dimostrati collaborativi manca solo lui quindi alla fine il ragazzo si fa da parte e fa entrare i detective che iniziano a ispezionare il suo appartamento e prendono nota dei seguenti oggetti trovati un grosso coltello una spada da samurai un fucile e due pistole cercando in modo più approfondito trovano anche una maschera fatta con delle mutandine femminili grandi quantità di cibo in scatola e un'infinità di preservativi e qui effettivamente qualcuno potrebbe pensare vabbè tanti preservativi in casa evidentemente quando ha rapporti ci tiene a proteggersi c'è però un problema con questi preservativi Stephen infatti poco tempo prima aveva detto agli agenti che lui era vergine voleva avere rapporti solo dopo il matrimonio perché era molto religioso quindi perché ha la necessità di tenere tutti questi preservativi in casa ma soprattutto perché ha necessità di comprarli questi preservativi se poi non li usa gli investigatori quindi ovviamente gli chiedono spiegazioni e Stephen dice la verità quei preservativi lui li ha rubati insieme ad altri effetti personali dagli appartamenti dei residenti dell'edificio a questo punto detective lo prendono in custodia per furto con scasso inoltre quelle mutandine fatte a mo' di maschera sono proprio di Loren i detective trovano anche il suo computer e non troppo distante dal computer trovano una chiavetta piena zeppa di foto di Loren Stephen l'ha fotografata più volte di nascosto ci sono foto in cui Loren entra i dieci dal suo appartamento ci sono altrettante foto in cui Loren butta via la spazzatura ci sono addirittura delle sue foto mentre studia nel suo appartamento la cronologia del browser dimostra che Stephen era solito visualizzare il profilo facebook di Loren più di cento volte al giorno alla fine i detective capiscono che Stephen stava spiando Loren da almeno sei mesi come minimo è chiaro che ora Stephen sia il principale sospettato per l'omicidio di Loren quindi viene portato in caserma per essere interrogato sui furti dei preservativi ma poi a seguito di questi ulteriori ritrovamenti l'interrogatorio si sposta proprio su Loren sappiate che su youtube c'è un video con tutto il suo interrogatorio che dura esattamente due ore io ve ne leggerò alcune parti perdonatemi non posso inserirvi le clip tradotte perché altrimenti youtube si emoziona tantissimo ma anche se non conoscete l'inglese io vi consiglio di andarlo a vedere quel video perché vi giuro è inquietantissimo per quanto mi riguarda in ogni caso il detective entra nella sala interrogatori e fa vedere a Stephen una foto di Loren e gli chiede se per l'appunto conosce questa ragazza Stephen risponde esattamente in questo modo sì in tono monocorde utilizzerà sempre questo tono sempre il detective continua chiedendogli quindi questa è la ragazza che viveva accanto a te sì ok e quando è l'ultima volta che l'hai vista Stephen nello stesso identico modo risponde noi o tre settimane fa vi giuro usa questo tono e vi aggiungo anche un altro particolare in questo momento Stephen ha lo sguardo verso il basso il detective è di fianco a lui tipo qui Stephen guarda verso il basso a un certo punto il detective gli dice ok ed eri amico di Loren guardami figliolo ok io sono qui a questo punto Stephen alza lo sguardo si gira in questo modo lo fissa negli occhi e vi giuro non distoglie mai lo sguardo mai risponde sempre allo stesso modo e il suo sguardo sembra perso nel vuoto le uniche parole che pronuncia sono sì no non ricordo non lo so il detective a questo punto per smuovere un po' la situazione gli dice che non ha pulito bene il sangue presente nel suo appartamento Stephen lo fissa sempre negli occhi ma non gli risponde rimane lì come una statua di sale il detective in modo alquanto animato gli ripete esattamente queste parole c'è del sangue nel tuo appartamento Stephen hai capito c'è del sangue nel tuo appartamento non hai pulito tutto non ce l'hai fatta ti sei fregato da solo possiamo dirti con sicurezza che non guardi CSI sì a questo punto lo sappiamo but we can tell that don't you watch CSI yeah we know it Stephen continua a non dire una parola e rimane girato a fissare il detective vi giuro è inquietantissimo da vedere il detective infatti esclama Stephen perché c'è del sangue nel tuo appartamento Stephen risponde non lo so il detective ribatte sì Stephen che lo sai c'è del sangue nel tuo bagno Stephen ripete di nuovo non lo so il detective ribatte certo che lo sai mi dici perché Stephen Stephen di nuovo risponde non lo so il detective a questo punto esclama c'è stato qualcun altro nel bagno Stephen a questo punto risponde beh la polizia il detective ribatte a parte la polizia chi altro c'è stato lì dentro Stephen risponde nessuno e il detective ribatte nessuno e tu dimmi hai pulito di recente il bagno Stephen risponde di nuovo no il detective risponde non è vero dai da quanto tempo non pulisci il bagno Stephen ribatte con non lo so il detective riprende e gli chiede un paio di giorni fa Stephen risponde no il detective quindi continua durante il fine settimana Stephen risponde di nuovo no è interessante è importante a questo punto sapere che Stephen fin da piccolo era fissato con la polizia e l'ordine probabilmente si è impegnato moltissimo per non lasciare tracce nel suo appartamento peccato che abbia fallito sempre durante questo interrogatorio il detective nota che Stephen ha un paio di graffi qui vicino al fianco comunque in questa zona e quindi gli chiede come se li sia procurati Stephen risponde penso di essermi graffiato durante il sonno ora vi siete mai graffiati durante il sonno? ve lo chiedo perché a me non è mai capitato nella vita ma graffiati in modo serio erano due bei graffi non erano due graffiettini così appena accennati se guardate l'intervista che Stephen ha rilasciato alla giornalista quella stessa mattina e questo interrogatorio che per inciso è stato fatto lo stesso giorno riuscirete a vedere l'estrema differenza del comportamento di questo ragazzo Stephen durante questo interrogatorio sembra smarrito si comporta come un bambino smarrito e ha malapena in grado di rispondere alle domande sembra davvero uno zombie arriviamo al giorno successivo è il primo luglio e Stephen appare in tribunale è accusato di furto con scasso e gli viene negata la cauzione nello stesso giorno la polizia notifica Stephen un mandato di perquisizione per il suo appartamento e gli investigatori sequestrano i seguenti oggetti due pistole un fucile una corda quattro mazze da baseball una baionetta che è un'arma da taglio un giubbotto di cotta maglia una fotocamera un cellulare un computer e due chiavi nel frattempo Stephen continua ad essere in prigione accusato di furto con scasso e per quanto riguarda l'indagine sull'omicidio di Loren tutto procede abbastanza velocemente infatti i detective nel giro di pochi giorni perquisiscono più volte l'appartamento di Stephen sequestrando ovviamente altrettante prove che gli erano sfuggite inizialmente soprattutto trovano la confezione che conteneva il seghetto sporco di sangue trovato in lavanderia un altro computer e una memoria esterna per di più in quel secondo computer i detective trovano parecchie ricerche molto inquietanti che Stephen aveva fatto su internet vi dico solo che aveva cercato più volte le foto di Loren senza vestiti su internet aveva digitato su google almeno 300 volte Loren Giddins nuda ovviamente non trovando mai nulla il giorno in cui è stato trovato il corpo di Loren Stephen da furbone ha cercato su google come cancellare definitivamente la cronologia delle ricerche il 2 agosto del 2011 la polizia emette un mandato d'arresto accusando Stephen McDaniel dell'omicidio di Loren Giddins le prove principali sono il seghetto che hanno recuperato nella lavanderia del complesso di appartamenti l'esame forense ha rilevato sia il DNA di Loren che quello di Stephen mentre la confezione del seghetto è stata trovata a casa di Stephen una delle due chiavi che hanno sequestrato dall'appartamento di Stephen si è rivelata la chiave maestra del complesso di appartamenti in pratica con quella chiave Stephen aveva accesso a tutti gli appartamenti di quel complesso compreso ovviamente quello di Loren insomma è come se avesse un passepartout poco dopo il ritrovamento del busto di Loren gli investigatori ricevono una telefonata da un ex compagno a distanza di Stephen il quale racconta che Stephen era solito raccontargli spesso di come avrebbe potuto commettere l'omicidio perfetto senza mai essere catturato il 3 agosto del 2011 Stephen compare in tribunale con l'accusa di omicidio ma si dichiara non colpevole il 21 febbraio del 2012 i pubblici ministeri annunciano che non cercheranno di ottenere la pena di morte arriviamo al 21 aprile del 2014 quando con una mossa inaspettata Stephen si dichiara colpevole dell'omicidio di Loren ad una settimana esatta dall'inizio del processo come parte del patteggiamento Stephen deve rilasciare una dichiarazione dettagliata che descrive esattamente cos'è successo la notte in cui ha ucciso Loren secondo la dichiarazione scritta di Stephen questo è ciò che è accaduto quella notte nella notte tra sabato 25 giugno e domenica 26 giugno alle 4 e mezza del mattino Stephen ha indossato una maschera e un paio di guanti ha usato la chiave maestra presente nella sua stanza ed è entrato nell'appartamento di Loren insiste particolarmente sul fatto che non ha mai fatto nulla di intimo con lei non si è avvicinato per avere qualche rapporto si è limitato a guardarla mentre dormiva il punto è che Stephen muovendosi ha fatto scricchiolare le assi del pavimento Loren si è svegliata ha visto una figura con la faccia coperta davanti al suo letto e la prima cosa che ha detto è stata per favore puoi levarti dal cazzo Stephen a questo punto al posto di andarsene è saltato sul letto gli ha messo le mani attorno al collo e ha iniziato a strangolarla i due quindi hanno iniziato a lottare e sono caduti giù dal letto Loren è riuscito a togliergli la maschera quindi l'ha riconosciuto lo ha pregato di fermarsi ma Stephen l'ha strangolata a morte poi ha messo il corpo nella vasca da bagno dell'appartamento di Loren ed è tornato nel suo appartamento che è esattamente a fianco all'appartamento di Loren se vi ricordate durante l'interrogatorio il detective preme tantissimo sul fatto che hanno trovato del sangue nel bagno dell'appartamento di Stephen e a mio parere quel sangue proviene dalla scena del crimine Stephen probabilmente tornando nel suo appartamento è andato in bagno magari ha sfiorato qualcosa un asciugamano un accappatoio qualcosa e ha lasciato delle tracce Stephen dopo aver commesso l'omicidio è rimasto a casa per tutta la domenica poi intorno a mezzanotte è tornato nell'appartamento di Loren e ha iniziato a tagliare il suo corpo con il seghetto che hanno successivamente trovato in lavanderia ha smaltito quindi tutti i resti mettendoli in dei sacchi della spazzatura neri e li ha gettati nei vari bidoni della spazzatura del campus della scuola di legge proprio di fronte al loro complesso di appartamenti il 28 giugno ha buttato via anche il busto della povera Loren nel cestino della spazzatura del complesso di appartamenti quindi in pratica l'ha buttato sotto casa sua bisogna sottolineare una cosa le altre parti del corpo ormai sono andate perse a causa della raccolta dei rifiuti il busto invece è stato trovato proprio perché il giorno della raccolta dei rifiuti il bidone all'interno del complesso di appartamenti è bloccato sia dalle auto della polizia che dai giornalisti Stephen viene condannato del regastro riesce ad evitare la pena di morte la pena capitale perché Loren non era proprio favorevole alla pena di morte quindi i suoi genitori hanno chiesto di non prenderla neanche in considerazione nel 2018 in un ultimo atto disgustoso il padre di Stephen crea un account GoFoundMe intitolato giustizia per Stephen McDaniel sperando di raccogliere 5000 dollari fortunatamente la pagina viene rimossa nel giro di poche ore da GoFoundMe arriviamo al febbraio del 2018 quando Stephen presenta una mozione per un nuovo processo si rappresenta da solo perché Stephen pensa di essere più intelligente di tutti gli altri sostenendo che i suoi diritti costituzionali sono stati violati durante le indagini e prima del processo Stephen infatti afferma che gli investigatori hanno documentato nel loro rapporto che il ragazzo durante l'interrogatorio non rispondeva verbalmente aveva lo sguardo fisso nel vuoto e mostrava poche prove del fatto che fosse mentalmente stabile quindi sostiene che non era mentalmente idoneo neanche per accettare o meno una perquisizione ora sono io o non devi accettare una perquisizione ma semplicemente subirla se un agente si presenta a casa tua con in mano un mandato di perquisizione in ogni caso Stephen aggiunge che i suoi avvocati non sono riusciti a perseguire verso quella linea difensiva il giudice grazie a Dio respinge la sua offerta per un nuovo processo personalmente credo che Stephen sapesse benissimo di non avere alcuna possibilità di ottenere un nuovo processo forse voleva solo fare l'avvocato per pavoneggiarsi un po' nell'aula di tribunale probabilmente perché a questo punto sapeva che non sarebbe mai diventato un avvocato a marzo del 2022 Stephen ha compiuto 36 anni nel 2041 potrà beneficiare della libertà condizionale ossia a 55 anni la famiglia Giddins ha istituito una borsa di studio nome di Loren la quale fornisce supporto per le tasse scolastiche agli studenti che sono molto bravi dal punto di vista accademico ma farebbero fatica a pagare le tasse universitarie ma voi cosa ne pensate di questo caso? insomma io non voglio immaginare il dolore dei suoi genitori ma anche del suo fidanzato David a distanza di due anni dal tragico fatto dice rilascia proprio un'intervista e dice più o meno queste parole molti mi dicono che il tempo guarisce le ferite e il tempo sistema le cose beh con me non succede anzi io forse sto ancora peggio di due anni fa sono ancora più frustrato penso che la scomparsa di Loren abbia lasciato dei vuoti immensi nel cuore delle persone che le volevano bene ed è molto triste tutto ciò molto molto triste perché Loren aveva davvero tanti tanti amici era una ragazza davvero tanto tanto apprezzata era una ragazza amata era una brava ragazza era una ragazza che cercava di far del bene per il prossimo era una ragazza che cercava sempre di dare una mano non si tirava mai indietro non diceva mai di no Loren mi chiedo perché ad andarsene siano sempre le persone buone e a questo punto non lo dico riferito solo a questo caso ma in generale sono molto dispiaciuta di ciò noto che di solito le vittime sono davvero delle persone di buon cuore non sono mai delle persone improdotte cattive o cose del genere mi dispiace davvero molto ma voi cosa ne pensate di questo caso a mio avviso agghiacciante agghiacciante proprio per come è stata uccisa Loren quindi conoscevate questo caso sapevate già di questa storia fatemi sapere quello che volete qui sotto nei commenti nel frattempo vi mando un bacione noi ci vediamo prestissimo al prossimo video mi raccomando fate i bravi continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene ma soprattutto prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici basta che non fate nulla di criminale ciao a tutti grazie a tutti